Quale sarà il primo obiettivo di Giovanni Sassolini nel suo mandato come Presidente degli Industriali della provincia di Arezzo? Ma io dico la verità ho un sogno, vorrei che è poi quello sempre dei miei colleghi della parte Umbria-Toscana. Io ho avuto un passato, ho già vissuto abbastanza a lungo, ho un lungo passato in Umbria, ero nel gruppo Nardi ai termini d'oro. Amministratore delegato della Sogema. Ho ritrovato tantissimi colleghi, facendo queste riunioni tra Umbria e Toscana ci siamo trovati fra tanti colleghi, abbiamo rifatto una rimpatriata come si dice. E con stare impatriato dovrebbe diventare un qualcosa di bypassante fra Umbria e Toscana, comprendere l'Alto Tevere come entità unica al di fuori, riuscire a tenerla fuori anche dalle pressioni e dalle tentazioni dei politici, farne un gruppo omogeneo, come si dice proprio proiettato a migliorare la condizione, all'interazione fra queste aziende, che in definitiva possono tutte assieme pensare ad un sogno complessivo. Ossia possono interagire tra loro e creare una sorta di rete, potrebbe essere una sorta di rete nella quale praticamente se ci guardiamo intorno produciamo un po' tutto. E quindi riuscire a fare sinergia tra noi e creare un'Alto Tevere che potrebbe essere forse paragonabile in futuro all'Alto Adige.